Ciao a tutti e bentornati su Fabio's Lab. Oggi vi porto una tartare di carne da servire come antipasto o come secondo dopo la sigla per la tartare di Fabio's Lab abbiamo bisogno della carne ovviamente importantissimo che la carne sia di ottima qualità potremmo usare il filetto che era incontrastato per fare la tartare altrimenti la noce o la fresa francese abbiamo bisogno di cetriolini sott'aceto della senate antica grani della cipolla bianca un uovo delle acciughe del tabasco del worcester un pizzico di paprika dei crostini di pane un limone e dei pomodorini come decorazione olio sale e pette bene per la nostra ricetta partiamo da tagliare la carne ottima cosa è tagliarla a coltello la ricetta nasce proprio tagliata a coltello quindi prendiamo il nostro bel pezzo di carne come potete vedere lo pariamo se ha qualche pezzettino di grasso cerchiamo di togliere accuratamente il tutto perfetto abbiamo due pezzi di carne belli puliti senza grasso in una terrina che ci prepariamo al lato bene iniziamo a tagliare la nostra carne quindi a striscioline più sottili possibili mi raccomando il coltello ben affilato così da fare pochissima fatica e tagliuzziare molto bene la carne senza riscaldarla troppo che il segreto sta proprio nel non riscaldare la carne e tagliamo tutte le nostre fettine in questa maniera aspetto andiamo al taglio sottile 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 quasi un trito eccolo qua lo mettiamo in una terrina e procediamo con tutto il nostro filettino se vogliamo possiamo dargli un'altra tagliuzziata in obliquo se vediamo che la carne è tagliata un po' troppo grossa in questa maniera perfetto per due persone la dose come antipasto è di 100 grammi a testa mentre se la serviamo come secondo per il piatto direi che 200 grammi a testa di carne e comunque è un bel piatto sostanzioso con l'aggiunto ovviamente dell'uovo dei vari ingredienti benissimo la nostra carne è pronta vedete molto molto sottile piccolina perfetto carne pronta possiamo procedere con gli altri ingredienti quindi partiamo dalla cipolla un trito sottilissimo possiamo addirittura frullarla se ci troviamo meglio ne basta poca eccola qua circa 3-4 fettine perfetto ci mettiamo assieme anche i nostri cetriolini sotto aceto io utilizzo il cetriolino perché gli da quel tocco un po' acido al tutto sgrassa bene la bocca quindi è molto molto apprezzato all'interno del della tartare tagliamo bello sottile perfetto continuiamo a tritare il tutto proprio un trito sottile 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 impercettibile in bocca quando avremo raggiunto un trito quasi perfetto inseriamo anche la nostra acciuga o filetto di alici quello che avete in casa senza dover andarlo a comprare ne aggiungiamo una quantità in questa maniera ecco molto bene perfetto ora abbiamo la nostra carne i nostri cetriolini l'acciuga o l'alici possiamo andare al condimento della nostra carne prendiamo la nostra senape in base ai vostri gusti uno o due cucchiai in questa maniera un cucchiaino da caffè a me piace molto quindi magari ne metto un po' di più la nostra senape il nostro tabasco un paio di gocce perfetto poi un pizzico di paprika paprika dolce bene salsa worcester che dà corretto gusto leggermente affumicato anche al tutto bene il nostro uovo utilizzeremo ovviamente solo rosso d'uovo quindi andiamo a separare rosso e albume perfetto molto bene con l'aiuto della nostra forchetta iniziamo ad amalgamare il tutto vedete in questa maniera cercando di separare ulteriormente un po' la carne e amalgamare il tutto ed ecco che abbiamo amalgamato un po' la nostra tartare ora aggiungiamo olio sale e pepe per emulsionare la nostra tartare andiamo per gradi quindi aggiungiamo poco sale alla volta perché abbiamo la salsa worcester che ci dà sapidità il tutto la nostra tartare è pronta possiamo andare all'impiattamento io utilizzo un piatto nero proprio per far risaltare il colore della carne quindi sul piatto nero con l'aiuto di due cucchiaia andiamo a creare delle knell in questo caso prepariamolo come antipasto quindi ci basteranno tre knell eccolo qua una tre perfetto i nostri crostini è arrivato il momento dei crostini crostini li ho preparati io precedentemente se volete farli in casa semplicissimo pane da tramezzino bianco senza crosta padella al minimo sul fuoco un filo d'olio se entrambi i lati del pane lo lasciate 3-4 minuti per ogni lato il risultato saranno questi crostini belli dorati così belli croccanti e saporiti olio se volete potete aggiungere anche un pizzico di sale quindi ci mettiamo i nostri crostini a vela in questa maniera perfetto il nostro pomodorino lo tagliamo in quattro spicchietti così spero che si veda eccolo qua quattro pezzettini e ci prendiamo il nostro limone tagliamo due fettine sottili le dividiamo a metà le appoggiamo a giro eccole qua un piatto semplice che presenta dell'insitio ovviamente nella preparazione la base più importante è il nostro limone ripeto è la carne deve essere di ottima qualità bene la ricetta è conclusa spero vi sia piaciuta lasciate pure un commento qui sotto un like al video vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo aggiornamento quindi un abbraccio a tutti voi un saluto a presto al prossimo video ciao 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 ciao